c'è una coppia di fidanzati che tutti i sabati va a mangiare alla solita pizzeria sabato e sabato dopo sabato ormai è un appuntamento fisso un sabato si presenta lui a mangiare ma senza di lei il cameriere si preoccupa e gli chiede scusa la tua ragazza non è venuta questa sera deve ancora arrivare e lui gli dice no la mia ragazza oggi è a mangiare nella pizzeria di fronte e come mai si è trovata male qui da noi no ma che si è trovata benissimo solo che siamo andati entrambi dal dentista e da me ha detto tutto bene continua a mangiare così come stai facendo mentre la mia ragazza ha detto è meglio che inizia a mangiare dall'altra parte da ora in poi